Sì, vi ricordo che sono su Twitch e di live, con il nome è Wartomas46 quindi vi consiglio di seguirmi, lascerò tutti i vari indirizzi in descrizione. Su questo canale porterò diretto tutti i giorni su Fortnite, Minecraft, School of Duty, Zombie, Multicelcatore e Earth of Iron 4. Non mancheranno inoltre dirette per eventi speciali, quindi vi consiglio di seguirmi e ora passiamo al video. Siamo a tutti ragazzi, sono Wartomas46.com di questione video di Fortnite. Come avete visto al titolo sono finalmente classificato in lega campioni con 324 punti attualmente, il mio massimo è 332 come avete visto in copertina. Il che vuol dire che sono classificato e potrò partecipare al torneo di oggi e domani 20 e 21 aprile 2019, dalle ore 19 alle ore 22, alle qualificazioni della Fortnite World Cup. Quindi mi raccomando di seguirmi stasera in diretta alla 19 e alla 22 per vedere un po' come andrà questo torneo. E adesso andrò in diretta per l'allenamento, quindi ragazzi per questo video è tutto, ci vediamo per un prossimo video e ciao! Ciao!